Una sagoma indimenticabile perché questo è il volto di una maschera del Novecento. Macario, il suo grande lavoro che adesso diventa mostra, diventa occasione per ricordare quello che sono stati momenti veramente d'oro del teatro, del cinema, dello spettacolo italiano. La parola indimenticabile è ricordare, cado veramente a pennello in questa circostanza, non sono circoscritta a questo evento, bensì a una situazione di amnesia collettiva. Macario non è stato ricordato a sufficienza? Il nostro è un periodo che dagli anni Ottanta ha subito un certo degrado discendente, i professionisti e i grandi talenti piano piano sono spariti e c'è stato più spazio ai dilettanti che ai professionisti talentuosi. Ci si è trovati di fronte a un vuoto storico. Questa mostra ha appunto queste ragioni storiografiche, di storia del teatro, di grandi personaggi del Novecento, in questo caso di una maschera teatrale che essendo maschera è diretta discendente della comedia dell'arte che ha coperto un arco temporale dagli anni Venti agli anni Sessanta, prevalentemente dominando i teatri italiani con un genere oggi appunto dimenticato ma che è stato fondamentale in tutto quel Novecento che era il teatro di rivista. Il rapporto di Macario con Genova? Il rapporto di Macario con Genova è un rapporto importantissimo. Io vedo con estrema malinconia la fine del teatro Augustus che era un luogo storico. Ancora di più per quanto mi riguarda, perché ci avevo recitato, la fine moralmente inaccettabile del teatro Margherita, uno dei teatri più belli d'Italia dove oggi invece c'è un tempio della mercanzia moderna. Il rapporto è profondo prima di tutto perché ha avuto in Genova uno dei suoi amici più grandi, cioè Gilberto Govi. Con Govi a Santa Margherita Ligure, dove io sono nato, dove mio fratello è nato, dove mio padre è stato per 40 anni ed è cittadino onorario, la nostra famiglia, Macario, mio padre, aveva la casa vicino a quella di Govi, quindi ci si interscambiava. Quindi il rapporto con Genova e con la Liguria tutta è stato per Macario un rapporto importante. fino a quando io mi ricordo una vacanza insieme a mio padre a Govi in una località sopra Chiaveri che si chiamava La Squazza, si chiama ancora adesso La Squazza, dove ho fatto una foto a mio padre a Govi dove Govi indica un punto e dice lo vedi Macario, quello è il Monte Bianco e invece siamo sopra Chiaveri. Insomma, il rapporto importante, e poi a Santa Margherita Ligure per 40 anni riceveva tutte le subrette, tutti gli scenografi, i costumisti, i musicisti. Nelle estati a Santa Margherita, mentre la gente si divertiva, compreso i figli, lui invece lavorava per strutturare quello che sarebbe stato lo spettacolo che sarebbe andato in scena a settembre.